Comandazioni, le mobilizzazioni di Joseba Zao hanno studiato come qualsiasi altra tecnica. Non dovete accontentarvi di praticare il Vandori come viene e viene e accontentarvi del risultato che ottenete il Vandori a terra. Va studiata come si studia il Shibatari, come si studia il Shibatari, come si studia il Shibatari. I punti importanti vanno individuati, vanno allenati e vanno controllati. Se la mobilizzazione è fatta bene, il controllo è giusto, è abbastanza difficile scappare, quasi impossibile scappare. A meno che ci sia una grossa differenza tra chi controlla e chi è controllato. E' la stessa cosa di subire un bel Seonaghe. Se il Seonaghe è fatto molto bene, è difficile uscire dal Seonaghe. Applicare ai bo, applicare ai ciò, applicare ai avare. Tutte le difese sono fatte perché dall'altra parte la tecnica non è perfetta. Allora, la difesa ha successo, ha la sua malizia. Altrimenti, non ha ragione di essere, non ha ragione di esistere. Le tecniche perfette chiaramente non è che non ci sono, ci sono, non lo sono tante. Così come Giuseppe Conte. Saper tenere bene una tecnica, soprattutto durante il combattimento, non è che sia facilissime. E per quello diventa necessario il Nogare Katà, che conosce. Altrimenti, anche se la tecnica non è buona, si rimane sotto. Come ho detto, per le lezioni di Nogare Katà, imparare a tenere gli Osei Komi, uno prende e l'altro allena il Nogare Katà, è un'ottima forma di allenamento per un mandorio a terra. Sono solo due cose, tenere il Osei Komi correttamente e studiare come Romeshani. Solo che due esercizi lì, gli aiutano a sviluppare poi tutte le altre tecniche di Katame Basar. Sia che siano strangolamenti, sia che siano remi. Si imparano molto più rapidamente. Molto più rapidamente perché imparate a usare bene il vostro corpo, le energie. Sapete muovere più correttamente. Non c'è niente come l'Osei Komi, come il Nogare Katà, a insegnare a muoversi bene nella lotta a terra. Quando ci si muove bene poi diventa facile tutto. Diventa facile fare strangolare, diventa facile fare delle lepre. Ma se manca la base, se mancano questi elementi, poi diventa difficile crescere con tutto il resto. E' come una casa che non ha le fondamenta. Più di tanto non si può andare su perché poi crolla. Ok? Prego. 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 Prego.